Settimana delicata per il Teens Basket. Sabato sera a Collegno i ragazzi di Coach Cardano hanno trovato la nona sconfitta consecutiva in questo complicatissimo campionato. 84 a 57. Sconfitta ampiamente preventivabile. Vincere in casa dei torinesi del grande ex Dominic Borgialli sarebbe stata un'impresa anche in condizioni di forma ottimali, figurarsi in un momento così difficile. Il Teens ha lottato onestamente per almeno metà partita, prima di cadere sotto i colpi del playmaker De Bartolomeo, ex di Borgomanero, e probabilmente tanto basta. La partita da vincere è questa sera alle 21. In un turno infrasettimanale inedito, la Serie C di Basket recupera la prima giornata di ritorno, inizialmente programmata a gennaio e poi posticipata per le solite cause. Trasferta nemmeno troppo lunga per Maffèo e compagni. Il Teens partirà alla volta di Arona. All'ombra del San Carlone, nella Palla Vikings, i biellesi sfideranno i padroni di casa in un vero e proprio scontro diretto per la zona salvezza. All'andata, era il 23 di ottobre, il Teens centrò una delle sue due vittorie stagionali, all'esordio in campionato. 13 punti a testa per Maffèo e Douro Bagna, quel giorno buoni per il 66 a 57 finale. I Verdi aronesi sono una squadra casalinga che tra le mura amica ha centrato le uniche sue vittorie, con Rivarolo e la povera ginnastica Torino, ma ha anche messo in difficoltà tante big del campionato. I ragazzi di coach Petricca sono una squadra dal potenziale offensivo comunque insidioso. L'esperto Simone Gatti, classe 82, è il miglior marcatore del campionato. 18 punti di media partita, con un massimo di 44 nella partita contro Collegno. Giocatore dal curriculum importante, ha giocato in A2 a Napoli e Chieti, in Serie B, in società prestigiose come Varese, Robur, Montegranaro e Teramo. Vincere per allontanarsi dai play-out. Sarà un mercoledì estremamente delicato per il Teens.